È un'organizzazione non governativa che lotta per la liberazione degli animali in provincia di Salerno e noi informiamo anche sul cambiamento climatico causato dagli allevamenti intensivi. Quindi cerchiamo di promuovere uno stile di vita vegano come soluzione per risolvere i cambiamenti climatici e per risolvere lo sfruttamento degli animali e delle loro sofferenze. A Salerno com'è la situazione? A Salerno noi abbiamo fatto delle indagini sui mattatoi, abbiamo visto che come mattatoio più attivo è quello di Atena Lucana e infatti abbiamo già svolto tre veglie lì, l'ultima ieri e poi ci saranno video che verranno pubblicati sulle nostre pagine. Sono video molto forti, insomma, video sentiamo gli animali che urlano prima di essere uccisi. Insomma, quello che noi vogliamo fare è documentare, far vedere gli occhi degli animali prima di andare nei macelli in modo tale che la gente possa capire che dietro a quella fettina di carne c'è un essere vivente che voleva vivere, voleva essere lasciato libero, proprio come noi, insomma, vogliono vivere semplicemente come noi, hanno sentimenti come noi, soffrono, sentono amore, felicità e quindi questo è il nostro messaggio. Poi abbiamo pensato anche di concentrarsi sull'aspetto climatico perché comunque è tutto correlato, in effetti il cambiamento climatico, una delle cause principali sono gli elementi intensivi e questo viene detto poco, quindi perciò noi siamo qui per informare e far capire che la nostra dieta ha un impatto enorme sul cambiamento climatico di oggi e attualmente, per esempio, una delle nostre grandi campagne che siamo portate avanti è l'ulteriore deforestazione dell'Amazzonia proposta dal nuovo Presidente Bolsonaro e ovviamente questo non è un problema solo il brasiliano, ma è un problema di tutti noi perché appunto il cambiamento climatico riguarda la nostra terra e il Presidente Bolsonaro vuole ulteriormente deforestare l'Amazzonia per fare posto agli elementi intensivi. Quindi se continuiamo così, insomma, non so che fine faremo tutti, quindi è bene che oggi cominciamo a prendere le iniziative, cominciamo ad essere attivi tutti e insomma a prendere le decisioni noi come consumatori perché possiamo cambiare le cose. Da ottobre, ottobre del 2018, quindi solo pochi mesi, già abbiamo fatto tre veie, abbiamo fatto due giornate di, è stato chiamato Natale senza sofferenza, quindi abbiamo offerto ai cittadini dolci natalizi senza l'utilizzo di derivati animali per informare che si può mangiare bene, sano, abbiamo un sacco di alternative, non c'è bisogno di causare la sofferenza degli animali, causare la distruzione del nostro ambiente perché siamo fortunati, abbiamo le alternative e possiamo scegliere. Io sono Simone Scampoli, sì, sono responsabile nazionale, ma mi occupo anche a livello mondiale di The Save Movement. The Save Movement nasce a Toronto nel 2010, la fondatrice Anita Crank fonda il movimento insieme al suo cane che si chiama Mr. Bean, proprio perché andando fuori in un parco vedevano appunto quotidianamente dei camion arrivare, avvicinandosi si affacciano e vedono le condizioni degli animali dentro questi animali destinati al macello, questi animali chiamati dal reddito, il che è un termine assurdo, perché sono vite, quindi non si può chiamare una vita dal reddito, è assurdo. Quindi lei vedendo la realtà dentro comincia ad andare quotidianamente lì a portare le storie di questi animali in giro. Ed ecco che poi dopo il movimento piano piano cresce, quando lei fu arrestata per aver dato acqua a dei maiali, questa cosa è stato diciamo il trampolino di lancio del movimento, perché questo gesto d'amore è stato criminalizzato, quindi la gente ha aperto gli occhi. Ecco che poi il movimento si è espanso e ho portato il movimento in Italia a settembre dell'anno scorso. Ci sono già 30 gruppi in Italia, principalmente basati sulla questione animalista, però il movimento, come Chiara ha già accennato, si basa anche sui problemi ambientali, ma anche sulla salute. Quindi cerchiamo di diffondere tutte le tematiche per far sì che l'opinione pubblica si sensibilizzi e capisca che c'è necessità di un cambiamento. E' quello che il mondo sta chiedendo e spero che anche l'Italia inizi a rispondere di questo. La sofferenza infitta sugli animali è di gran lunga superiore di come è stata in passato, credo che abbiamo toccato il fondo. Soffrono, soffrono continuamente di quello che facciamo con Animal Save, Chiara ha già accennato. Andiamo proprio dove c'è sofferenza, incontriamo queste vite e portiamo le loro storie in giro. Vogliamo che la gente veda che dietro un prodotto da scaffale c'è una vita che ha sofferto tutto il tempo. Quindi portiamo queste cose in giro, ma come anche lei ha già accennato, sensibilizziamo la questione ambientale. Quindi in maniera tale che sì, si può parlare di rifiuti fossili, industrie fossili, plastica, tutto ciò che concerne la questione ambientalista. Ma ahimè, gli allevamenti intensivi sono la causa principale delle emissioni gas sera, deforestazione, acidificazione degli oceani, fame nel mondo. Quindi la gente deve sapere che ciò che mettiamo nel piatto tutti i giorni ha un impatto. E oggi nel 2019 dobbiamo tutti iniziare un pochino a essere consapevoli delle scelte che facciamo. E sì, avere un cambiamento in questo mondo perché non si può andare avanti. Sì, è un network internazionale che apre una sezione a Salerno, l'aperta da pochi mesi, e volta appunto alla sensibilizzazione degli animali che sono esseri senzienti, quindi divulgheranno ancora di più, insieme alle altre associazioni animaliste che sono sul territorio, il rispetto per gli animali, anche se vogliamo dire che per chi non è proprio vegano, vegetariano, anche un'etica della morte, perché uccidere un animale in atroce sofferenze non è umano, ecco, è disumano e noi dovremmo essere attenti sempre a qualsiasi essere vivente. Dovrebbe essere la regola che ci accompagna nella nostra quotidianità.